La natura, che meraviglia! Respirata pieni i polmoni quest'aria stupenda. Ma quanto cibo viene dimenticato nel frigo? Quanta plastica c'è sul nostro tavolo? Quanti di questi rifiuti finiscono in mezzo alla natura? E quanta roba viene gettata come se nulla fosse? Oggi, con 4 euro, abbiamo portato i bambini al parco e abbiamo fatto a gara a chi raccoglieva più rifiuti. Non solo si sono divertiti tantissimo, ma stiamo cercando di insegnarli ad avere rispetto di ciò che li ha creati. Adesso che le cose le sappiamo e le conosciamo, istruiamo e cresciamo ad ultimi giorni. O almeno proviamoci! Arrivederci amici, alla prossima avventura!